Ecco un antipasto super veloce per la vostra tavola di Pasqua, questi cestini con la pasta brisè sono davvero carini. Per prima cosa dobbiamo cuocere le uova, dobbiamo fare le sode, quindi le facciamo cuocere per circa 8 minuti. Poi prendiamo un rotolo di pasta brisè e andiamo a togliare tanti gerchi. Prendiamo una teglia per muffin, oliamo oppure imburriamo il fondo e sistemiamo tutti i cestini facendoli aderire bene sui lati. Adesso con i lembi di una forchetta bucherelliamo il fondo di ogni cestino così in cottura non si gonfieranno troppo e trasferiamo la teglia in forno, in forno statico già caldo a 200 gradi per circa 5 minuti. Nel frattempo in una ciotola mettiamo un po' di tonno con maionese e mischiamo il tutto, dobbiamo fermare una cremina al tonno. Ecco pronta la cremina, adesso andiamo a tagliare le uova che abbiamo lasciato intiepidire e formiamo i nostri cestini. Sul fondo di ogni cestino andiamo a mettere un po' di rucola, poi mettiamo un po' di cremina al tonno e finiamo con un pezzettino d'uovo. Ed eccoli pronti, sono davvero super veloci e secondo me molto molto carini e vi assicuro che sono buonissimi. Ciao e alla prossima ricetta!